Vi abbiamo beccato, siete voi black bloc, siete venuti a distruggere la città, siete venuti ad ucciderci, ora siamo noi ad uccidere voi. E' un poliziotto pronunciare queste parole contro i manifestanti che nel luglio del 2001 andarono i migliaia a Genova per il G8. Parole che sembrano macigni all'indomani di quanto accade nella scuola Diaz la sera del 21 luglio 2001. In quello che era considerato il centro del coordinamento del Genoa Social Forum fecero irruzione secondo la Corte d'Appello di Genova 346 poliziotti, 149 carabinieri erano fuori per la cinturazione dell'edificio, 93 persone furono fermate, 61 furono ferite in quella che è stata definita dal vicequestore Michelangelo Furnier una macelleria messicana. Finirono sotto accusa 125 poliziotti, in secondo grado ne sono stati condannati 25 su 28. Di questo tratta il documentario di Carlo Bachschmidt, black bloc, la costruzione del nemico, proiettato nell'ambito del Festival di Cinema e Letteratura del Racconto e il Film. Ma chi era il nemico in quei giorni? Il nemico è chi fa scelte politiche che veramente devastano e danneggiano il pianeta e le popolazioni del pianeta e questo purtroppo lo viviamo tutti i giorni, non solo in paesi lontani ma anche in Europa stessa. E questo è il motivo per il quale molti cittadini si mettono insieme per poter trovare un'alternativa, trovare un'alternativa attraverso le organizzazioni a cui appartengono, attraverso i propri collettivi. Sono persone giovani, sono persone che hanno maturato esperienze diverse che probabilmente non credono più che nella politica istituzionale ci possa essere una risposta. Tu ti aspettavi che finisse così? Tu hai viaggiato, sei arrivata in Italia, sei andata a Genova per partecipare ad una manifestazione pacifica, te l'aspettavi una fine così? No, io ero molto innocenti, adesso ho imparato molto alla Diaz e anche a Bolzanetto, adesso sono diverso, adesso ho imparato che bisogna fare attenzione, ma in quel momento lì no, non mi aspettavo. Anche se il clima che c'era a Genova era veramente un clima di guerra, si faceva la guerra a quelli che volevano mostrare il loro dissenso. Le forze dell'ordine andavano lì con il sentimento che il manifestante era l'ennemico e dunque c'era una tensione anche dopo la morte di Carlo Giuliani che tutti volevano partire di Genova in realtà. Noi siamo finite nella scuola Diaz e abbiamo finito male.